Papà, grazie per avermi donato le cose più importanti nella mia vita, il tuo tempo, la tua attenzione ed il tuo amore. Il mio cuore ce l'hai con te, in un mondo in cui tu non sei mai andato via ed io non ti ho mai perso. Ovunque tu sia, te ne sei andato, ma non sarai mai dimenticato. Ti voglio bene, papà. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se il Signore non costruisce la casa, la casa non è di mattoni, è la vostra storia. Oggi avete messo un altro mattone alla vostra storia che è il mattone del sacramento. Il sacramento sigilla per sempre una promessa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.